Cari amici di Milionavventura, non potevamo iniziare oggi un video se non celebrando i 22 anni di questo sito dedicato al Commodore 64, ready64.org. 22 anni, il 24 luglio 2002 evidentemente è stato per la prima volta aperto questo sito che sta cercando di documentare la storia del Commodore 64 in Italia catalogando programmi, giochi, scansioni di riviste, libri eccetera eccetera. Come festeggiano questo anniversario con le Olimpiadi? Visto che tra due giorni inizieranno le Olimpiadi andiamo a vedere che cosa hanno recuperato. Il piatto forte sono le Olimpiadi italiane sul Commodore 64, questo Summer Sports che era comparso su una classica rivista in cui bisognava come al solito leggere un listato e riportarlo sul proprio Commodore 64. Ebbene vedete qui ci sono delle belle schermate che adesso andremo a vedere e che giocheremo parzialmente, poi come al solito vi lascio i link per provare voi stessi, e c'è questo Summer Sports 1 e Summer Sports 2. Risalgono al 1985. È tutto in Basic, perciò vedete che nonostante l'uso del Basic si potevano fare cose apprezzabili. Perciò auguri a Ready64 che compie 22 anni e andiamo a vedere le pagine che riguardano Summer Sports. L'importante è programmare perché in effetti se facciamo il confronto, un confronto impietoso tra Summer Sports pubblicato come listato sulla rivista e quest'altro, quest'altra schermata qui che vedete di fianco che è Summer Games della Epix, beh il confronto è ovviamente impietoso però si capisce da dove è arrivata l'ispirazione per creare questo questo gioco completamente in Basic, mentre Summer Games che avrete giocato all'epoca ecco era ovviamente con parti immagino in linguaggio macchina in Assembly. Perciò Pasquale Cardona, l'autore di questo clone di Summer Games, completamente in Basic, ha avuto proprio un'ispirazione molto netta con Summer Games. Dove era pubblicato tutto questo? Su Home Computer numero 15 del luglio 1985 costava 3500 lire mensile dedicato all'uso del computer in casa. Si parla anche di MSX della Philips, il computer che in Italia, il sistema MSX era soprattutto arrivato come marchiato Philips e me ne ricordo alcune versioni addirittura nell'86 mi ricordo un MSX della Philips e poi altre cose ma qui si parla adesso di, diamo missione Africa, nave della pace, porterà in Africa soccorsi immediati aiuti, Atari 130XE, Atari Computers e ormai sono passati quasi 40 anni da questa rivista, i quaderni Jackson, ne ho uno che parla proprio di avventure testuali a firma di Enrico Colombini che mi è stato mandato gentilmente da un appassionato, ma andiamo avanti la posta, saltiamola, l'avventura e l'avventura, festa nazionale dell'unità giovani, c'era ancora la festa dell'unità all'epoca, biblioteca per ragazzi, conoscere il personal, primi passi in basic, gli errori del QL, ecco una guida completa per conoscere pregi e difetti del QL, ovviamente della Sinclair, perché ho voluto arrivare fino a qui, meno che non volessi anche andare oltre, ma non credo, perché come sapete, eccolo qui, è uscito retrocomputer, il numero, il volume 3 di questa rivista che ci parla di retrocomputer, ovviamente, in copertina, vediamo se riesco a ingrandire, in copertina il VIC-20, quindi qualcosa che ha a che fare ovviamente con la Commodore, il VIC-20 spazzo via le console e poi altri articoli interessanti, ce ne sono tantissimi, ma quello che volevo mostrare, a parte l'MSX, arriva a Pisa il papà dell'MSX, quindi lo potete scoprire a Pisa e eccolo qui, Sinclair QL, provò a sfidare la concorrenza ma fallì per i troppi bug, perciò vedete che dopo 40 anni continuiamo a parlare sempre degli stessi argomenti, l'informatica è andata avanti ma vogliamo sempre tornare indietro a scoprire queste meraviglie dell'informatica, quindi gli errori del QL anche nel 1985 se ne parlava ma se ne parla ancora adesso nel 2024 e questo è l'articolo invece Summer Sports con tutto il listato da battere che noi grazie a Redi64 possiamo giocare tranquillamente, c'è un listato per i 100 metri piani, per il caricamento, la cerimonia, di premiazione, i tuffi, vedete ogni specialità che adesso vedremo, in questo non le vedremo tutte ve ne faccio vedere una, poi ve l'andate a giocare, ginnastica, sollevamento pesi, piattelli, quindi varie specialità olimpioni che sono state scritte con loro listato basic separato che poi viene caricato dal caricatore non so come si facesse, adesso ingrandisco un po', ecco abbattere questa roba qui con tutti questi spazi non segnalati doveva essere un vero incubo, chissà come hanno fatto, ecco adesso si vede meglio perché si è rigenerato chissà come hanno fatto quelli di Redi64 a ricopiare questa roba qui, ma soprattutto, questo che cos'è? piattelli, piattelli, a ricopiare tutta questa schermata del tiro al piattello, complimenti per chi ci è riuscito ora andiamo a vedere qualcosa in più, eccolo qui, Summer Sports, c'è la pagina dedicata, si può scaricare il gioco quando l'ho scaricato io c'erano zero click, adesso sono già due, c'è il manuale e questo invece è Summer Games, l'originale della Epix, che decisamente c'era il salto con l'asta c'erano i tuffi, c'era questo che è qualche gara di corsa, c'è il salto ginnastica e questo c'è anche in Summer Games c'è il nuoto, tiro al piattello, dovrebbe essere questo, credo, non so da cosa si capisce, comunque e poi la premiazione, un'ispirazione molto viva di questo gioco del 1984 che ha ispirato Summer Sports il nome l'hanno cambiato, ecco io avevo giocato soprattutto al Decathlon dell'Activision 1984 c'erano le specialità del Decathlon, i 100 metri, salto in lungo e bisognava manovrare il joystick il ciclancio del peso, salto in alto, 110 metri ostacoli, insomma tutte le salto con l'asta la gara del 1500 e ci doveva essere anche la maratona ma ce l'hanno risparmiata quindi nel Decathlon evidentemente c'erano solo nove gare io la maratona non me la ricordo perciò penso che fosse stata eliminata per la difficoltà di riprodurre una cosa sensata sul Commodore 64 c'è anche sempre su Ready 64 tutto il testo di come giocare perché effettivamente bisogna sapere come giocare, come sono suddivise queste gare e poi c'è Summer Sports 2, c'è stato anche il seguito pubblicato a novembre dello stesso anno sempre Pasquale Cardona che ha aggiunto alcuni giochi come ci spiegano nell'articolo sono presenti alcuni giochi che però non hanno il listato cioè c'è il listato completo, meglio l'elenco completo dei giochi ma due non sono stati inseriti e non si sa visto che Pasquale Cardona non sono riusciti ancora a contattarlo non si sa se i giochi esistono vedete ciclismo e getto del peso sono stati annunciati ma quanto risulta mai pubblicati ciclismo smarrito, getto del peso smarrito evidentemente sulla rivista non c'era spazio per inserirli e qui anche per Summer Games 2 di Pasquale Cardona dell'85 edito da Mirage ci sono le istruzioni ma a bando alle ciance andiamo a vedere dove ho messo i giochi me li sono persi eccolo qui, Summer Sports, il numero 1 andiamo a vedere come è stato recuperato ecco qui che si apre si sta caricando ed ecco qui vedete c'è lo sprite del tedoforo che va ad accendere e poi questo scrolling di questo testo che ricorda appunto Summer Games le Olimpiadi estive quindi qua a questo punto non so perché è stato messo il joystick sulla porta 1 cosa insolita e vedete 100 metri piani, tuffi, piattelli, ginnastica, sollevamento pesi infine premiazione vi faccio vedere quello più brutto cioè i 100 metri piani gli altri li andate a scoprire voi perciò seleziono 1 e vedete che si va a caricare il secondo listato il listato dei 100 metri piani ora bisogna attendere Ready Go ecco e col joystick ovvero in questo emulatore con i tasti 4 e 6 si va continuare a muovere il joystick e come vedete sto battendo il record di Jacobs perché ci ho messo 18 secondi ovviamente Jacobs ci mette 9 secondi e qualcosa e quindi ci ho messo il doppio del tempo pazienza non ho potuto fare di meglio e quindi vedete come funziona è tutto in basic perciò avete notato anche che c'è qualche difettuccio cioè gli sprite invece di farli sparire e ridefinirli vengono ridefiniti in corso d'opera quindi si vede sullo schermo lo sprite che si va a riformare con il disegno necessario vediamo anche i tuffi così tanto per vedere questa cosa qui che vi ho fatto notare cioè lo sprite che si ridisegna no qui non è successo dunque qui c'è il tuffatore ecco che si lancia poi devo muovere il joystick è rispuntato per fortuna non è annegato il giudice ha scritto 24 e poi si può saltare di nuovo adesso lo fermo se faccio ripartire che succede no riparte così e allora andiamo a vedere la cerimonia di premiazione come come è fatta beh qui c'è sempre quindi premiamo un tasto premiazione si carica la premiazione ovviamente uno deve provare a fare tutti questi giochi si segna il proprio record e seleziona la specialità e inserisco il tempo quanto ci ho messo 8 secondi ecco vedete lo sprite che si è ridisegnato e qui c'è la scritta you are winner the record of world temo che il nostro pasquale avesse un po' di problemi con l'inglese poteva anche all'epoca nell'85 non c'era google che potesse aiutare però magari chiedere a qualcuno come si scrive che se il se il vincitore del record del mondo magari si poteva anche chiedere in effetti quindi è proprio una cosa molto molto amatoriale però fatta bene tutto in basic vedete lo sprite che salta che si era ridefinito al volo e c'è chi premia lì in basso andiamo a vedere anche summer sports 2 pubblicato poi come vi dicevo a novembre anche qui c'è tutto l'articolo che spiega su ready64 è molto interessante qui addirittura vedete una presentazione molto più diciamo ci sono queste animazioni con gli sprite i caratteri che si colorano se uno si è battuto tutta questa roba al computer beh complimenti a lui perché insomma sono tante cose da scrivere per una presentazione che si poteva evitare vedete che a questo punto ci invitano a caricare ss2 scusate ero su un altro schermo chiudiamo ci invitano a caricare ss2 quando si sarà caricato il cursore comparirà su run e daremo un invio e anche qui una bella presentazione con questa grafica in pet ski che viene fatta viene fatto lo scrolling vedete si poteva fare anche uno scrolling in basic un po' più interessante sfruttando varie capacità varie capacità del commodore 64 ci chiedono di premere di nuovo fire si ho swappato i joystick ed ecco che adesso si andrà a caricare la lista dei giochi a disposizione vediamo quali sono vi ricordo che non ci sono appena comparirà qui c'è sempre lo sprite con scritto summer sports avete notato di nuovo il problema dello sprite che si ridefinisce bastava mettere un poke che disattivasse lo sprite e poi lo facesse ricomparire allora 100 metri stile libero vediamo equitazione ciclismo e getto del peso non ci sono e poi c'è la cerimonia di chiusura stile libero è praticamente i 100 metri però nuotando vediamo l'equitazione almeno vediamo uno sprite un po' più elaborato se comparirà perché vedo che ci vuole un po' di tempo essendo tutto realizzato in basic qualche eccolo il cavallo che si ridefinisce ha fatto una cosa ha usato due sprite uno per il cavallo intanto facciamolo correre però devo anche saltare ecco notate le animazioni siamo nell'85 non si possono pretendere le animazioni del principe di persia non so se avete visto nella rassegna settimanale di domenica ho mostrato un canale che ha fatto vedere come il programmatore del principe di persia ha realizzato le animazioni sono arrivato ha realizzato le animazioni usando dei filmati del fratello che correva e quindi poi veniva tutto digitalizzato se non l'avete visto guardatevi la rassegna settimanale di domenica scorsa e vedrete che canale ha pubblicato quel tipo di materiale il principe di persia 1990 qui siamo nel 1985 e il cavallo è realizzato in modo molto artigianale però accettabile giochi di nuovo mettiamo no vediamo che succede dovrebbe caricarsi forse la la lista dei giochi no si carica di nuovo avete visto lo sprite che si è ridefinito ora proviamo la cerimonia di chiusura mettendo un tempo esagerato no forse forse la cerimonia di chiusura qui non c'è si dobbiamo vedere la cerimonia di chiusura sull'altro non so se è un problema mio o dell'emulatore vediamo un po' qui sono tornato su summer sports il primo premiazione vediamo ah no ma forse non c'era la premiazione nell'altro oh sono riuscito ora proviamo a mettere un tempo esagerato vediamo dove ci mette sta caricando la la premiazione facciamo sempre 100 metri piani ma mettiamo il tempo che avevamo fatto il tempo era 18 you are you no are winner the record award insomma comunque il listato c'era perciò si poteva correggere l'inglese e magari chi chi l'ha battuto leggendo questa frase si è messo a correggere l'inglese perché non si può leggere sta cosa anche se è di 40 anni fa insomma un minimo di inglese anzi proprio leggendo i manuali del commodore 64 molto spesso materiali in inglese si poteva imparare parecchio inglese informatico ora ci chiedono di premere questo new record non so bene cosa dovessi scrivere comunque abbiamo mostrato questo summer sports e speriamo speriamo che continuino ancora a pubblicare cose interessanti per altri 22 anni e oltre perciò grazie a roberto grazie a amigos grazie a tutti quelli che in questo momento sono qui sul sito che se lo guardano che se lo ammirano a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivedi in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti